Che servizi offrite agli sposi? Allora, noi facciamo liste nozze, bomboniere, vendiamo articoli da regalo, ci troviamo a Francavilla al mare, abbiamo una metratura molto vasta di 1100 metri quadri. Su questi 1100 metri trattiamo un numero notevole di marchi made in Italy che permetteranno agli sposi di trovare tutto quello che possono desiderare per la loro nuova vita insieme. Perché venire da voi? Perché siamo fornitissimi, perché siamo preparatissimi, perché abbiamo ogni tipo di novità che il mercato presenta e perché lo facciamo col cuore. Emozionati con Emozionando.